Uno spettacolo per gli studenti dedicato al sindaco pescatore Angelo Vassallo, ucciso dalla malavita pollica nel Salernitano, ma anche per ricordare che la buona politica esiste e che ogni cittadino può fare la sua parte, l'attore Ettore Bassi lo ha portato al Teatro della Gioventù di Genova. Il fatto che questa storia sia finita, ahimè, tragicamente, non deve lasciar cadere il ricordo e la memoria, ma deve anzi tenerla viva sempre di più e lo spettacolo, il teatro e le storie, la storia raccontata in teatro è un modo per farlo. Abbiamo trovato un comune dissestato, credi, il bilancio non veniva discusso tanto meno approvato da almeno tre anni, il personale poi aveva strane abitudini, non c'era orario, né di inizio né di fine lavoro, che arrivava alle 9, che alle 10, che ancora più tardi e poi non sapevano che cosa fare, si sprecavano ore, inutili, pagate, sprecate, la sostabbare, il giornale, la disciplina non esisteva, esistevano diritti e nessun dovere. I ragazzi sono attori, nel senso che ci abbiamo tenuto a, dal momento che questa è una storia che noi vogliamo portare ai ragazzi e farla raccontare anche dai ragazzi, fare dei ragazzi il tramite attraverso cui questa storia possa essere veicolata, li mettiamo sul palco e quindi gli facciamo vivere direttamente l'esperienza. Io ogni volta che comincio lo spettacolo, prima di farlo metto questi ragazzi sul palco, gli faccio due ore di prove e gli racconto che cosa faranno. Proprio perché l'obiettivo è quello di fare in modo che i ragazzi vivano dentro di sé, nella propria carne, con le proprie emozioni direttamente questa storia e si accorgano che poi una storia, quando va raccontata in un certo modo, va vissuta, diventa anche molto più forte, sia per sé che per chi l'ascolta. Io penso che sia fondamentale trasmettere i valori ai ragazzi, a queste scolaresche che hanno risposto qui al teatro della gioventù. Lo spettacolo, il sindaco pescatore è uno spettacolo di valori, è uno spettacolo e un monologo che in un momento in cui è più facile che venga trasmessa il senso dell'antipolitica, invece far capire ai ragazzi che ci può essere una buona politica e in questo caso una buona amministrazione di un sindaco che ha avuto coraggio che si è opposto, che non è seduto di fronte a poteri come quelli della mafia, della camorra, penso che sia assolutamente fondamentale.